Musica Sono oltre 700 gli operai di Acciaierie d'Italia partiti da Taranto questa mattina alle 4 per raggiungere Roma in vista della manifestazione nazionale con sciopero di oggi pomeriggio. Tragedia sul lavoro in Capitanata un uomo di 47 anni è morto in località posta conca schiacciato da un mezzo pesante su cui stava eseguendo attività di manutenzione. I porti di Bari, Barletta, Monopoli, Manfredonia, Brindisi e Termoli hanno fatto registrare incrementi importanti sia per il traffico merci che passeggeri. Crescita enorme anche nel settore delle crociere. Buongiorno, ben trovati. Consueto appuntamento con l'informazione interregionale Antenna Sud News. Ed allora un presidio quest'oggi all'esterno del Ministero delle Imprese alle 14 tra circa 45 minuti dunque il Ministro Urso riunirà un tavolo di confronto sul gruppo Acciaierie d'Italia. Sono ben 14 gli autobus partiti nella notte da Taranto. Ricordiamo che al presidio aderiscono FIOM, FIM, Wilm e USB che appunto saranno anche al tavolo. Ed intanto a Taranto sciopero di 24 ore per i lavoratori dell'acciaierie e delle aziende dell'indotto. Ma noi andiamo direttamente a Roma. Vedo in collegamento già pronto con un ospite il collega Francesco Manigrasso. Francesco, buon pomeriggio. Sì, buon pomeriggio a voi dalla Capitale. Siamo qui a Roma sotto al Ministero delle Imprese Made in Italy dove appunto ha detto Tufocanti che il Ministro Urso incontrerà a breve non solo i sindacati ma anche le parti sociali compindustria per discutere appunto della situazione difficile che sta vivendo l'acciaieria di Taranto. Io come vedete mi trovo in compagnia proprio del Presidente di Confindustria Taranto, Salvatore Toma, a cui chiedo fondamentalmente che cos'è che vi aspettate da questo incontro di oggi. Sì, buongiorno a tutti gli aspettatori. Buongiorno, buongiorno Presidente. Noi naturalmente la prima cosa che chiederemo innanzitutto al Ministro siamo contenti della disponibilità, dell'interlocuzione che da quando si è insediato sta avendo per questa vicenda dell'acciaieria Italia. Naturalmente alla base di tutto ci vuole un piano industriale, piano industriale che deve partire dall'ambientalizzazione, il rispetto della produzione, dei lavoratori sia interni che esterni, delle aziende dell'indotto e naturalmente anche dei cittadini del territorio. Quando perché io sottolineo le aziende dell'indotto sono parte integrale di acciaieria Italia, uno senza l'altro non può sopravvivere e questo deve essere importante. Naturalmente l'altra cosa che chiediamo è che lo Stato vigili, perché visto che parliamo di uno stabilimento strategico, di interesse nazionale, quindi non coinvolge solo tanto ma coinvolge l'intera nazione. E quindi lo Stato deve vigilare, non vogliamo la statalizzazione totale ma bensì siamo per un eventuale cambio di governance con l'Italia in maggioranza, ma qualunque sia chi guiderà questo per l'acciaieria Italia, lo Stato deve vigilare. Perché deve vigilare? Deve vigilare naturalmente con un tavolo permanente secondo noi del territorio dove ci siano appunto le associazioni datoriali, il comune, la provincia, la regione, i sindacati. Perché effettivamente secondo noi il dialogo, il confronto che non c'è stato in passato potrebbe servire al vigilare che si vada verso la decarbonizzazione e naturalmente diventi uno un gioiellino, naturalmente non in pochissimo tempo perché ci vogliono diversi anni, ma adesso le risorse appunto con il PNR ed altre risorse, il discorso di DRI, potrebbero far sì che tra 5-10 anni potremmo avere uno stabilimento decarbonizzato. L'altra cosa naturalmente che chiederemo oggi al Ministro, dove abbiamo preparato appunto qualcosa anche da lasciare iscritto, comunicato, è quello che siamo un po' perplessi per l'articolo 2 del DL. Naturalmente perché quando sentiamo la voce amministrazione controllata alle aziende dell'indotto soprattutto viene in mente quello che hanno subito i crediti, i famosi crediti di 150 milioni di euro che dal 2015 ancora devono riscuotere. E quindi naturalmente questo destra molta preoccupazione. Quindi questi sono di sintesi uno dei alcuni punti che noi chiederemo oggi al Governo. Perfetto Presidente, grazie mille. Chiaramente se ci sono domande noi siamo qui e noi documenteremo quanto sta per accadere qui a Roma perché siamo appunto in attesa dei 750 lavoratori, sindicati, sicuramente che sono appunto partiti come avete documentato voi questa notte da Taranto. Nessuna domanda, grazie Francesco. Naturalmente ringrazio anche il Presidente Salvatore Toma. Ci aggiorniamo noi naturalmente Francesco nel corso anche della prossima edizione del telegiornale, quello riferito a Taranto e alla sua provincia. Chiarissimo il Presidente Toma ha detto dunque sul tavolo portiamo la richiesta di un piano industriale che guardi anche all'ambiente, lo Stato vigili dunque lavoratori dell'indotto siano trattati al pari dunque importanti tanto quali i lavoratori diretti. ha proposto anche il Presidente Toma l'istituzione di un tavolo permanente del territorio che possa guardare in maniera concreta alla decarbonizzazione del sito. Francesco Manigrasso diceva appunto questa notte, lo abbiamo documentato, l'ha documentato per noi il collega Leo Spalluto, questa notte oltre 700 gli operai di Acceglieri d'Italia che sono partiti da Taranto. E' un viaggio ricco di incertezza e disillusione quello degli operai che partono per Roma per partecipare alla manifestazione nazionale proclamata da Wilm, Fium e USB sulla vertenza Acceglieri d'Italia. L'appuntamento alle 3.30 del mattino, la partenza alle 4, il presidio nella capitale previsto nel primo pomeriggio in contemporanea con la riunione convocata con le parti sociali dal Ministro delle Imprese Adolfo Urso. Da Taranto partono in 700, la Fium dalla Concattedrale, l'USB dal Palamazzola, la Wilm, il gruppo più nutrito con i suoi ottobus, da Via Magnaghi. Con la consapevolezza che ormai è giunto il momento decisivo, non ci può essere un'altra giornata senza risposte sul futuro dell'azienda siderurgica. E auguriamoci non un viaggio della speranza, ma un viaggio di risposte concrete. I lavoratori si sono espressi in maniera pressoché unanime con la volontà appunto di subordinare i finanziamenti pubblici a un cambio della governance che vede almeno lo Stato in maggioranza, che era quanto ci disse Urso in data 17 novembre. Quindi per noi questo resta la condizione sine qua non per dare un indirizzo ambientale, sanitario, produttivo, occupazionale allo stabilimento e all'intera comunità. Senza un cambio dell'attualità dei setti societari io ritengo che tutto resterà solo pure fantasia. La lotta in realtà è iniziata dieci anni fa e probabilmente nessuno, anzi credo sicuramente nessuno, si sarebbe mai aspettato dopo dieci anni di arrivare a una situazione ancora peggiore del punto di partenza, dove neanche si conosce il modello produttivo, tolte i slogan e i chiacchiere che si vuole utilizzare all'interno di quello stabilimento. Torneremo a parlare tra pochissimo del vertice romano dunque relativamente a quella che è definita negli anni la vertenza ex ilva. Ed intanto benzinai che confermano lo sciopero i prossimi 25 e 26 gennaio. I benzinai sono sul piede di guerra e confermano lo sciopero del 25 e 26 gennaio. L'incontro con il ministro Urso non ha prodotto risultati, gli sforzi del governo di ridurre le sanzioni non bastano, rimane l'esposizione del cartello alle stazioni di servizio che ai sindacati di categoria non vanno giù. I consumatori devono sapere che il cartello farà aumentare il prezzo, diventa un benchmark al quale tutti si allineeranno e anche nella formazione, siccome sono soggetti che poi dovranno mettere il cartello, si terranno più alti. Questo è l'ABC, non è meno dell'economia. Questo cartello implica da parte del gestore operativamente, quindi la sua modificazione che sarà quotidiana. E se non avviene perenne motivi che comunque non cambieranno il prezzo con cui il gestore vende al pubblico, sarà soggetto a una sanzione e questa sanzione crescerà in maniera esponenziale e potrebbe persino portare alla perdita dell'impianto. Il governo per l'Ornon ha saputo o voluto assumere la responsabilità di prendere impegni concreti sulle questioni che direttamente possono incidere anche sui prezzi dei carburanti. Non siamo e non possiamo essere come anello debole della catena le persone responsabili di certe realtà che ci sovrastano. E' l'ennesima imposizione rispetto a situazioni che non generano il massimo della chiarezza. Il giorno dopo la tragedia che ha sconvolto la comunità di Fasano e la morte di un bimbo per soffocamento, le indicazioni del direttore del 118 per fare in modo che questi drammi non si ripetano più. Una tragedia che ha scosso un'intera comunità il giorno dopo la morte per soffocamento del bimbo di un anno e mezzo. A Fasano non si parla d'altro. Dolore, sgomento, vicinanza ai giovani genitori. Difficile in questi casi fare appello alla rassegnazione. Difficile accettare che un piccolo abbia chiuso gli occhi per sempre a causa di un tappino andato di traverso. La segnalazione al 118 poco dopo le 13 in tre minuti i sanitari hanno raggiunto il luogo indicato. Il padre del bambino aveva già provato a strapparlo alla morte. La squadra, il team del 118, il medico del 118 in particolare ha trovato una situazione di arresto cardiorespiratorio. Il papà aveva già effettivamente tentato di praticare delle manovre di sostruzione, quindi è stato fatto il massimo possibile. E tra l'altro i tempi di intervento sono stati brevissimi perché dal luogo della postazione medicalizzata all'arrivo sono intercorsi solo tre minuti. All'arrivo poi sono state praticate tutte le manovre di eliminazione cardiopolmonare per la disostruzione e per la rianimazione cardiopolmonare adatta all'età. Tutto è inutile, solo lacrime, dolore e un malore per i parenti soccorsi dagli stessi operatori. Come è potuto accadere e soprattutto come fare per evitare che si ripetano queste tragedie? La ASLA di Brindisi, al pari di tutte le altre a livello nazionale, organizza corsi per insegnare ai genitori ad intervenire tempestivamente ed efficacemente in casi simili. Nell'attante si praticano delle pacche dorsali alternate alle compressioni con le due dita a martello con una tecnica che prevede la posizione dell'attante sul braccio con la testa declive in basso appoggiata sulla gamba. E si svolgerà oggi alle 15.30 nella chiesa di Maria Santissima della Salette il funerale del piccolo. La piccola Salma è vegliata nella casa dove viveva insieme a mamma e papà. Ancora un incidente mortale sul lavoro nel Foggiano. Nel tardo pomeriggio di ieri un operaio di 47 anni è rimasto schiacciato da un mezzo pesante mentre svolgeva dei lavori di manutenzione. È morto schiacciato da un camion sul quale stava eseguendo dei lavori di manutenzione. Rocco Romano, un operaio di 47 anni di Foggia. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio del 18 gennaio all'interno del parcheggio della ditta CDSRL sita alla periferia del capologo Dauno in zona Salice presso la quale la vittima lavorava. A quanto si apprende l'uomo stava eseguendo attività di manutenzione sul mezzo quando il cedimento di un paletto avrebbe causato lo spostamento improvviso del macchinario che lo ha travolto senza lasciargli scampo. A chiamare i soccorsi sono stati alcuni dipendenti della ditta ma quando il personale del 118 è arrivato non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato che hanno effettuato i rilevi scientifici e gli uomini del servizio di prevenzione e sicurezza sul lavoro che stanno effettuando accertamenti sulla posizione lavorativa della vittima e verificando se fossero state messe in atto tutte le misure previste dalla legislazione antinfortunistica. Ritrovato morto nelle campagne lo scorso agosto per un incidente eppure la procura ha disposto l'autopsia sul cadavere di un 79enne di Torre Santa Susanna. Lo scorso agosto dopo che i parenti ne denunciarono la scomparsa il corpo senza vita del 79enne fu ritrovato in un pozzo sorgivo in un terreno privato tra le campagne di Torre Santa Susanna e se in un primo momento l'episodio fu orchiviato come un incidente nel corso di una passeggiata per raccogliere fichi d'India a distanza di cinque mesi la procura di Brindisi voleva darci chiaro ordinando l'estumulazione del cadavere disponendo al contempo l'autopsia sulla salva di Vincenzo Di Noi l'anziano morto in seguito, questo raccontò la cronaca ad una caduta in quella cavità nascosta tra le campagne di contrada grandizia. Ad eseguire l'esame come disposto dal PM Giuseppe De Nozza sarà Raffaele Giorgetti, medico legale con cattedra presso l'Università delle Marche in quest'ora in Puglia per depositare in procura gli esiti dell'autopsia sul corpo di Paolo Stasi il 19enne di Francavilla Fontana ucciso con due colpi di pistola lo scorso 9 novembre come atto dovuto è indagato invece il proprietario del fondo un uomo di Torre è chiamato a rispondere alle reati chiaramente solo ipotizzati di omicidio colposo e mancata custodia del pozzo stesso peraltro l'auto del 79enne fu ritrovata in un altro terreno di proprietà di un'altra persona insomma un giallo l'ennesimo su cui la procura messapica vuole fare piena luce per quanto indifferita ed è stata eseguita questa mattina l'autopsia sul cadavere del 79enne di Torre Santa Susanna deceduto lo abbiamo ascoltato ad agosto in seguito ad una caduta in un pozzo nelle campagne di Contrada Galizia la perizia sarà consegnata alla procura dal medico legale Raffaele Giorgetti entro i canonici 60 giorni 8 persone arrestate dai carabinieri del comando provinciale di Taranto nell'operazione ispanico express a quanto pare amavano la Spagna infatti la visitavano spesso salvo poi scoprire che lo facevano soprattutto per rifornirsi di droga Ashish e Mariana arrivavano a Taranto però anche attraverso semplici corrieri espressi per poi essere spacciate nei quartieri Paolo VI e Salinella 8 persone sono state arrestate oggi dai carabinieri di Taranto a vario titolo sono accusati del reato di detenzione spaccio di sostanze stupefacenti in concorso nell'ordinanza il GIP Macagnano ha disposto il carcere per Umberto Ducchetti 39 anni e il 47enne Ivan Fiorino agli arresti domiciliari Cosimo Resta 60 anni Alessio Turbato di 27 il 24enne Massimo Catapano Dan Marco Manigrasso di 25 anni il 33enne Antonio Luigi D'Aprile e Mauro Castellano di 51 anni grazie all'attività investigativa coordinata dalla procura ionica sono stati sequestrati 25 kg di Ashish e quasi 5 kg di marijuana 21 sarebbero in totale gli indagati fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva nei prossimi giorni si attende l'interrogatorio di garanzia per gli arrestati Durante il question time alla Camera il ministro alla salute Schillaci interrogato dal parlamentare Mauro Dattis prospetta l'invio di ispettori in Puglia per indagare sulle criticità della sanità brindisina e pugliese La possibilità che il governo avvii un'attività ispettiva conferma che no non è più non solo una criticità provinciale che no, la stessa non sia neppure limitata al confronto regionale il caos nei pronto soccorso di Brindisi e le problematiche legate alla sanità pugliese approdano in Parlamento con l'interrogazione presentata da Mauro Dattis dal gruppo di Forza Italia sulla situazione della sanità in Puglia Emerge un quadro in Puglia drammaticamente preoccupante per la gestione della sanità se le chiediamo, signor Ministro e quali iniziative per quanto di competenza intende intraprendere valutando la sussistenza dei presupposti per iniziative di carattere ispettivo e sostitutivo La problematica legata ai pronto soccorso esplose lo scorso 16 novembre con l'arrivo dei carabinieri nel pronto soccorso appollato nel Perlino dove quel giorno morì anche una paziente in attesa che la regione Puglia oltre che la magistratura chiarisca cosa accade davvero il ministro Orazio Schillaci prospetta all'invio di ispettori Con riferimento all'episodio del 16 novembre 2022 il Dipartimento della Regione rappresenta che il turno di servizio dalle 20 alle 8 dei dirigenti medici del pronto soccorso del Presidio ospedaliero Perrino di Brindisi era regolarmente coperto da due unità In merito alle circostanze dettagliate il Dipartimento ha segnalato che è stata istituita un'apposita commissione interna per acquisire tutte le informazioni utili ad una puntuale ricostruzione degli eventi questa attività è però ancora in corso mi riservo ogni ulteriore iniziativa anche di carattere ispettivo all'esito dei lavori della submenzionata commissione Sono circa 300 per il 2022-23 le nuove assunzioni riguardanti il personale del comparto sanitario effettuata nelle quattro aziende sanitarie locale un numero dunque complessivo che si traduce nel rafforzamento del personale dirigente medico-infermieristico OSS e di altre figure professionali siamo in Basilicata Sono circa 300 le nuove assunzioni riguardanti il personale del comparto sanitario effettuate lo scorso anno nelle quattro aziende sanitarie lucane ASM, ASP, San Carlo e CROB di Rionero un numero complessivo che si traduce nel rafforzamento del personale dirigente medico-infermieristico OSS e di altre figure professionali ad annunciarlo è stato l'assessore regionale alla salute vicepresidente della regione Basilicata Francesco Fanelli che ha espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto sul quale ha dichiarato bisogna però continuare a lavorare Nel 2022 tra assunzioni e concorsi ci sono 300 nuove unità appunto che vanno a sopperire a una carenza cronica che purtroppo stiamo vivendo a livello nazionale tant'è che è stato registrato anche nella conferenza Stato-Regioni per cui nel 2022 con tanti concorsi e con le stabilizzazioni che si sono realizzate attraverso quel personale che aveva prestato servizio durante il periodo del Covid per almeno 18 mesi e per almeno 6 mesi dal marzo 2020 al giugno 2022 diamo delle risposte concrete è chiaro, siamo consapevoli che non è bastevole ma questa è la strada giusta inoltre abbiamo attivato anche tutte le altre procedure idonee a reclutare personale come mobilità, visi di personale in quescenza, stiamo mettendo in campo ogni utile azione per originare questo problema Importante sequestro di cocaina da parte delle fiamme gialle di Bari a Savona Il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Bari ha sottoposto a sequestro circa una tonnellata di cocaina trasportata da una nave mercantile approdata nella porto di Savona Le investigazioni sinora svolte dalle fiamme gialle baresi con il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari sono finalizzate a ricostruire l'operatività di un'associazione per delinquere dedita al traffico transnazionale di cocaina che opererebbe nel centro-sud Italia in collaborazione con soggetti della criminalità albanese Nel corso delle indagini lo scorso 2 gennaio i finanzieri del capoluogo pugliese a seguito di una perquisizione in un appartamento adibito a B&B nel comune di Celle Ligure dove i trafficanti avevano stoccato lo stupefacente giunto al porto di Savona avevano proceduto al sequestro di oltre 3,5 quintali di cocaina con il conseguente arresto in flagranza di 4 uomini di nazionalità albanese ritenuti responsabili del traffico illecito le successive investigazioni hanno consentito di acquisire elementi informativi che concernono l'arrivo al porto di Savona di un'ulteriore nave mercantile battente bandiera di Hong Kong con un altro ingente carico di cocaina pertanto le fiamme gialle baresi del gruppo investigazione criminalità organizzata a seguito dell'arrivo al porto di Savona della seconda nave mercantile hanno proceduto all'ispezione della parte sommersa della carena della nave l'attività svolta dai sommozzatori della sezione operativa navale di Savona ha consentito di ritrovare e sottoporre al sequestro a carico di gnoti 741 panetti di cocaina imballati in 26 involucri di cellofan abilmente occultati nelle prese a mare dei motori dell'imbarcazione per un peso complessivo di una tonnellata A Barletta l'ultimo saluto ad Alessia Di Cuonzo la giovane ballerina che ha perso la vita in un tragico incidente stradale investita mentre tentava di prestare soccorso ad altre persone sulla strada statale 170 le grida di dolore di una madre che ha perso la figlia l'ultimo saluto ad Alessia Di Cuonzo tra la folla fiori e palloncini bianchi in sottofondo una canzone per ricordare la ballerina centinaia di persone hanno salutato la giovane barlettana di appena 23 anni rimasta coinvolta nel terribile incidente accaduto alle 23.40 del primo maggio 2022 lungo la statale 170 Alessia è venuta a mancare martedì 10 gennaio 2023 dopo un'agonia lunga più di otto mesi Appuntamento dei sindaci pugliesi a San Severo Insieme per il futuro della Puglia con questo tema i sindaci della regione Puglia si sono dati appuntamento venerdì 20 gennaio a San Severo per l'Assemblea regionale del Lanci l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia l'appuntamento è presso il teatro comunale Giuseppe Verdi di San Severo con il presidente Anci Puglia Ettore Caroppo il presidente Anci Nazionale Antonio De Caro saranno presenti il vice ministro della giustizia Francesco Paolo Sisto e il presidente della regione Puglia Michele Emiliano invitato anche il ministro dell'interno Matteo Piantedosi l'Assemblea si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco di San Severo Miglio e del presidente della provincia di Foggia Nicola Gatta a seguire la relazione introduttiva del presidente regionale Puglia Anci Ettore Caroppo sindaco di Minervino di Lecce la sessione mattutina sarà incentrata sui temi della legalità della trasparenza e dell'efficienza amministrativa con riferimento ai poteri e alle responsabilità dei sindaci a queste tematiche sarà dedicato un focus moderato dal giornalista Filippo Santigliano a cui parteciperanno alcuni sindaci pugliesi nel pomeriggio poi intervento della segretaria nazionale Anci Veronica Nicotra a seguire voce ai comuni spazio dedicato agli interventi delle amministratori locali si parlerà di finanza locale PNRR transizione energetica e digitale e di temi di interesse comunale anche in considerazione della legge di bilancio del 2023 I porti di Bari Barletta Monopoli Manfredonia Brindisi e Termoli hanno fatto registrare incrementi importanti sia per il traffico merci che passeggeri crescita enorme anche nel settore delle crociere ed allora il presidente dell'autorità di sistema portuale del mare adriatico meridionale Ugo Patroni Griffi dice sia solo un punto di partenza una crescita record che ci porta a una movimentazione di quasi 20 milioni di tonnellate di merce il 2022 si chiude con un bilancio più che positivo per i porti dell'adriatico meridionale un traguardo storico secondo il presidente Ugo Patroni Griffi con più di 19,5 milioni di tonnellate di merci movimentate i sei porti del sistema Bari Brindisi Manfredonia Barletta Monopoli e adesso anche Termoli segnano il 16,2% di crescita rispetto al 2021 e il 13% in più rispetto al 2019 l'anno pre-pandemia ma soprattutto ciò che ci rallegra è che crescono un po' tutti i settori dell'economia del mare dalle rinfuse che sono ovviamente il settore che è più labor intensive che genera più lavoro per quanto riguarda i porti liquide e solide i contenitori i rotabili i passeggeri sia dei traghetti che delle crociere questi effettivamente non ancora ai livelli del 2019 ma prossimi a quei livelli del 2019 e se i risultati relativi al flusso di passeggeri in generale dei traghetti è esaltante è addirittura straordinario quello che riguarda i croceristi si registra infatti un più 50% rispetto l'anno precedente un buon dato che per noi costituisce un dato di partenza abbiamo chiuso l'anno con alcune opere che finalmente sono riuscite a superare gli scogli della cattiva burocrazia molte procedure sono in fase di chiusura e molte opere quindi sono oggi pronte per essere appaltate i progetti si tramutano in opere opere che permetteranno ai nostri porti di essere più attrattivi di essere più accessibili e quindi più competitivi ed è tutto il nostro telegiornale interregionale termina qui grazie per averci scelto per averci seguito non andate via perché tra pochissimo è il momento dell'informazione su Bari Bat e Foggia rimani connesso scarica gratuitamente dagli store o tramite QR code la nuova app di Antenna Sud più veloce e con più funzioni per essere aggiornato in tempo reale sulle news di Puglia e Basilicata seguire in streaming i nostri programmi o rivederli on demand da qualsiasi dispositivo